Parte la seconda campagna di screening di massa del Comune di Teramo dall'inizio della seconda ondata della pandemia Covid. Questa interesserà la popolazione scolastica delle scuole superiori, medie ed elementari teramane e si svolgerà in due giornate con l'obiettivo di testare 11.000 persone. Parte questo screening di massa, come sarà organizzato? Un'organizzazione imponente perché parliamo complessivamente di una popolazione che è comprensiva di studenti, studenti, docenti e persone non docenti di tutte le scuole che insistono nella città di Teramo contano circa 11.000 persone. Chiaro che i numeri non saranno questi, auspichiamo che ci sia un'ampia partecipazione però l'organizzazione deve essere calibrata sui numeri. La mattina lo screening sarà effettuato per le scuole superiori, nelle 10 sedi che abbiamo attivato dentro le quali ci saranno diverse linee e nel pomeriggio consentiremo alle scuole elementari e medie di effettuare per la seconda volta lo screening di massa su popolazione scolastica. Ricordiamo che la città di Teramo è stata la prima a mettere in campo uno screening generale sulla popolazione scolastica a fine dicembre e ora è la prima nuovamente a fare uno screening che riguarda tutta la popolazione, comprensiva anche delle scuole superiori. I tamponi saranno effettuati di mattina nelle scuole superiori per venire incontro agli studenti pendolari. Nel pomeriggio invece si effettuerà lo screening ai ragazzi di medie ed elementari che dovranno essere accompagnati dai genitori. Logisticamente come saranno organizzati questi tamponi all'interno delle scuole? Tecnicamente è uguale a quelli che abbiamo fatto nel periodo di dicembre, all'interno delle palestre o di locali che saranno adibiti appositamente per poter fare lo screening. Nel caso, ad esempio, il liceo classico utilizzeremo l'auditorium del liceo classico. Voglio dire, concettualmente lo screening è identico a quello che abbiamo già visto qualche settimana fa nel mese di dicembre nel nostro comune. Oggi è tecnicamente differente la tipologia di soggetti che possono partecipare allo screening, che sono i ragazzi delle scuole superiori. E di questi voglio ricordare a tutti che molti di loro non sono residenti nel nostro comune, per cui lo screening non è indirizzato solamente alla popolazione terramana, ma è indirizzata anche a una popolazione che raccoglie tutta la provincia. Torniamo a ripetere questo screening a distanza di qualche settimana, anche per verificare se rispetto ai risultati che abbiamo avuto nella fase precedente ci sono state delle differenze o ci possono essere delle differenze.